il signore sia con voi dal vangelo secondo luca ed ecco in quello stesso giorno il primo della settimana due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus distante circa 11 chilometri da Gerusalemme e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto mentre conversavano e discutevano insieme Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo ed egli disse loro che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino si fermarono col volto triste uno di loro di nome ecleopa gli rispose solo tu sei forestiera Gerusalemme non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni domandò loro che cosa gli risposero ciò che riguarda Gesù il Nazareno che fu profeta potente in opere in parole davanti a Dio e a tutto il popolo come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte lo hanno crocifisso noi speravamo che gli fosse colui che avrebbe liberato Israele con tutto ciò sono passati tre giorni da quanto queste cose sono accadute alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti si sono recate al mattino alla tomba non avendo trovato il suo corpo sono venuta a dirci di aver avuto anche una visione di angeli i quali affermano che egli è vivo alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne ma lui non l'hanno visto disse loro stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria cominciando da Mosè da tutti i profeti spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui quando furono vicini al villaggio dove erano diretti e gli fece come se dovesse andare più lontano ma essi insistettero resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai il tramonto egli entrò per rimanere con loro quando fu a tavola con loro presse il pane recitò la benedizione lo spezzò e lo diede loro allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero ma egli sparì dalla loro vista ed essi dissero l'un l'altro non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quanto ci spiegava le scritture partirono senza intugio e fecero ritorno a Gerusalemme dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro i quali dicevano davvero il signore risorto ed è apparso a simone ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane parola del signore sia lodato gesù cristo l'angello di oggi narra l'apparizione di gesù a due dei suoi discepoli avvenuta nello stesso giorno di pasqua è un racconto che ci affascina e tutte le volte che lo leggiamo ci rivela sempre qualche cosa di nuovo i due discepoli sono in cammino nella sera di pasqua da gerusalemme al villaggio di emmaus mentre parlano tra loro dei fatti sconcertanti accaduti a gerusalemme il venerdì precedente gesù si fa loro presente sotto le vesti di un viandante e come se fosse anche lui in cammino verso la stessa direzione li raggiunge e si unisce a loro senza essere riconosciuto i due discepoli sono tristi e scoraggiati tornano a casa privo ormai di qualsiasi speranza avevano riposto in gesù tutto il futuro della loro vita avevano creduto in gesù avevano sognato e sperato nella fondazione di un regno potente con la sua morte in croce anche la loro speranza muore con lui gesù interviene per illuminarli ostolti e tardi di cuore a credere a tutto ciò che hanno detto i profeti non doveva forse il messia patire tali cose ed entrare poi nella sua gloria come mai quei due discepoli pur avendo visto e conosciuto tante cose riguardo al maestro divino ora hanno la mente ottenebrata e incapace di riconoscerlo la concezione di un messia politico che avrebbe assicurato la prosperità a israele ha impedito ai due di riconoscere in cristo sofferente il salvatore promesso come sperare salvezza da chi è morto appeso a una croce eppure i profeti ne avevano parlato Gesù stesso l'aveva predetto e ora i due discepoli lo sentono spiegare le scritture cominciando da Mosè e da tutti i profeti tutti i passi si riferivano a Gesù i due di Emmaus l'ascoltano volentieri ma non credono ancora a Maria di Betani era bastato sentirsi chiamare per nome per riconoscere il risorto ai due discepoli non basta né la sua voce né il lungo conversare con lui né sentirlo spiegare le scritture in realtà si può avere il Signore vicino camminargli a fianco e non riconoscerlo si può avere un'ottima conoscenza della scrittura tuttavia non coglierne il senso profondo che ci rivela Dio è così che molti non riescono a fare il salto tra il conoscere e il credere neppure vedere il Signore è sufficiente per credere è necessaria la luce della fede perciò chiediamo spesso al Signore di aumentarci la fede quando il misterioso viandante sta per lasciarli i due discepoli lo pregano resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al tramonto non è tanto il gesto un gesto di cortesia verso lo sconosciuto quanto il bisogno di restare in sua compagnia di ascoltare ancora la sua parola che aveva acceso nel loro cuore un ardore insolito non solo il Signore accetta l'invito ma concede ai due la grazia di una maggiore luce di fede per farsi riconoscere subito dopo infatti Gesù prese il pane lo benedisse e spezzatolo lo porgeva loro era il gesto tipico che Gesù soleva fare quando divideva il pasto con i suoi discepoli allora si aprirono i loro occhi e lo riconovero ma egli sparì dalla loro vista i due discepoli dopo aver riconosciuto il Signore mettendo da parte ogni tristezza tornano a Gerusalemme pieni di entusiasmo e di gioia è questa la gioia della Pasqua la gioia che Cristo risorto ha portato al mondo è la stessa insoppremibile gioia che i cristiani di tutti i tempi sperimentano quando con gli occhi della fede riescono a riconoscere Gesù nell'Eucarestia e a vivere intimamente con Lui la vita si trasforma completamente se in molti credenti la fede si è spenta o addormentata spesso il motivo va ricercato in una mancanza di intimità profonda e personale con Cristo non si sono ancora incontrati veramente con Lui come persona tuttora viva e presente che vuole essere il compagno del loro cammino l'amico, l'ospite del loro cuore e noi se facessimo un sincero esame di coscienza della nostra tristezza dei nostri scoraggiamenti della nostra diffidenza nei confronti della vita troveremo uno stretto e chiaro legame col Vangelo di oggi perché dimentichiamo che Gesù è vivo accanto a noi anche ora come sulla strada di Emmaus facciamo nostra la bella preghiera pasquale dei due discepoli resta con noi Signore perché si fa sera essa esprime il desiderio dell'incontro intimo e personale col Signore perché soltanto così la fede e l'amore si accendono si diventa capaci di accenderli in altri cuori la Chiesa in questo periodo pasquale ci esorta non solo a condividere la traboccante pienezza di giubilo nell'incontro con Cristo risorto ma a tradurre in pratica il mistero con l'impegno di una vita nuova e santa la Vergine Maria ci ottenga tale grazia sia lodato Gesù Cristo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti